Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo anche oggi per una classifica, ma questa volta non andremo a vedere i migliori giochi. Quello l'abbiamo già vista ieri, oggi vedremo i flop 5 del 2022. In realtà è stata una flop un po' particolare da realizzare, perché non ci sono state grosse delusioni in questo 2022. Ho giocato diversi titoli, mi sono divertito con diversi titoli, solo che alcuni, probabilmente anche per una questione di aspettativa personale, mi hanno effettivamente deluso. Infatti in questa flop che vedremo oggi non ci saranno delle vere e proprie schifezze di giochi o delle vere e proprie schifezze di gameplay. Probabilmente gli unici che non mi sono proprio piaciuti e che non sono riuscito a buttare giù in questo 2022 sono soltanto le prime tre posizioni della classifica. Mentre invece la quinta e la quarta posizione probabilmente vengono definite un flop non tanto per la loro qualità, che comunque a mio avviso, soprattutto di uno in particolare, è molto molto evidente, ma risultano essere dei flop un po' per una mia aspettativa personale. Quindi sono dei flop che comunque non sono flop perché fanno schifo, ma perché appunto hanno deluso fondamentalmente le mie aspettative. È ovvio che su qualche titolo probabilmente non saremo neanche tanto d'accordo, però mi fa molto piacere magari se anche voi poteste in un qualche modo condividermi una vostra flop dei 5 giochi del 2022 o se addirittura avete altri titoli che avete considerato dei flop. Quindi detto ciò ovviamente non perdiamo altro tempo, cominciamo subito ad elencare la flop 5 del 2022 presentata ovviamente. La quinta posizione si apre con Scorn. Così come però ho detto precedentemente, Scorn risulta essere un flop di questo 2022 non tanto perché il gioco di per sé sia brutto o perché non mi sia piaciuto, ma semplicemente perché ha deluso un pochettino le mie aspettative. Ambientazioni eccezionali, colori, musica, tutto immersivo al 100%. Anche quel tocco di gore che sinceramente a me in un videogioco piace, però la cosa che mi ha fondamentalmente deluso è che il titolo di per sé dura veramente veramente poco e nel momento in cui tu riesci effettivamente a penetrare all'interno della storia e riesci soprattutto ad apprezzare fondamentalmente il titolo ti ritrovi praticamente alla fine senza neanche sapere il perché. L'unico finale sinceramente non mi ha colpito più di tanto, avrei sinceramente voluto magari più epiloghi, magari rifacendo le run, anche perché durando relativamente poco era possibile effettivamente aggiungere magari un contenuto aggiuntivo. Che sicuramente potevano spiegare meglio la storia, potevano permetterti di raccogliere dettagli che avresti potuto analizzare anche tu personalmente, però capisco anche che la mole di lavoro era estremamente alta per una produzione indie che però sicuramente ha soddisfatto moltissime delle mie aspettative. Ripeto, gioco flop non tanto per la qualità, perché la qualità di Scorn è ineccepibile, però una delusione personale proprio perché mi sarei aspettato di più e sicuramente avrei voluto vedere di più. La quarta posizione invece viene coperta da Cult of the Lamb. Cult of the Lamb anche in questo caso non lo reputo un flop perché non mi sia piaciuto o perché non mi sia divertito. Semplicemente Cult of the Lamb è stato presentato ed è stato hyppato probabilmente più di quello che effettivamente fosse necessario. È un gioco senza dubbio carino, la parte gestionale del gioco che per l'appunto racchiude la sua anima, il suo spirito centrale, è assolutamente divertente e incredibilmente coinvolgente. Per quanto riguarda invece tutto il resto, per quanto riguarda ovviamente sia la difficoltà che il completismo del gioco, ho trovato il tutto un po' troppo rasciato e forse un po' troppo tutto veloce, troppo frenetico. Devo ammettere che il gioco lo si completa veramente in pochissime ore, soprattutto se si ha una dimistichezza e si ha appunto una capacità di affrontare i livelli in maniera matura e competente. Cosa che ovviamente si può fare è che la maggior parte dei giocatori sicuramente avrà avuto modo di poter migliorare e sicuramente poter sfruttare. E quindi di conseguenza anche Cult of the Lamb fa parte di quei flop che non vengono considerati flop perché brutti o perché non divertenti, ma semplicemente perché mi sarebbe piaciuto poter approfondire di più il gioco, approfondire il discorso. E sicuramente anche approfondire le mie ore di gameplay che sono state relativamente poche perché una volta presi i giusti ritmi e soprattutto una volta sviluppate le giuste configurazioni per quanto riguarda il tuo villaggio, riesci a giocare in maniera fin troppo spedita e hai la possibilità soprattutto di rasciare il gioco in veramente pochissimo tempo. Qui adesso invece entriamo in quelle che sono state delle delusioni proprio perché legate alla bruttezza o comunque alla non bellezza definitiva del gioco. Dying Light 2 è stato un titolo che io ho aspettato per veramente tanto tanto tempo, mi ero divertito tantissimo con il primo capitolo, mi ero letteralmente innamorato della storia e mi ero anche immerso tantissimo nel gameplay, tant'è che il primo capitolo addirittura l'ho rigiocato tre volte, giusto per farvi capire quanto mi fosse piaciuto, però su Dying Light 2 purtroppo non c'è stato il colpo di fulmine. Ho trovato il gioco molto ripetitivo, l'ho trovato praticamente identico al primo capitolo, ci sono state veramente pochissime differenze che mi hanno permesso di intuire e di capire che stessi giocando a un qualcosa di nuovo, perché in realtà come gameplay, come struttura di gioco è letteralmente identico al primo capitolo. Quindi ci sono rimasto molto male, è stata una grossa delusione Dying Light 2 proprio perché preso in preordine, proprio per assaporare e cercare di immagermi nuovamente in una storia, soprattutto per Next Gen, dato che l'ho comprato su PS5, proprio per potermelo godere in formato Next Gen e vedere tutte le migliorie che potevano essere fatte all'interno di un titolo simile. Purtroppo mi sono ritrovato con in mano un pugno di mosche con un titolo veramente quasi identico al primo capitolo che mi ha veramente deluso e quindi di conseguenza lo devo mettere in terza posizione proprio per questo suo mancato salto qualitativo, per questo suo mancato balzo in avanti che purtroppo lo condanna e lo penalizza in questa mia flop del 2022. Seconda posizione invece che viene occupata da addirittura Postal 4 No Regrets. Io personalmente parlando sono sempre stato un grande amante della serie di Postal e della Running With Shesource proprio perché avevano questo umorismo pungente, avevano questo loro modo sarcastico di raccontare le storie, violenza gratuita, trama che era completamente fuori di testa ed era un gioco letteralmente nato per far sorridere. Sì, però nel 2010. Praticamente in Postal 4 No Regrets vengono ripresi tutti i temi, tutte le battute e tutte le robe che facevano ridere praticamente dieci anni fa. Cosa che sinceramente non mi è piaciuta. Ho trovato molto ridondante e delle volte anche stonato in un concetto o comunque in un progetto che poteva tranquillamente essere un free roaming dove si poteva applicare violenza e si poteva fare un pochettino quello che si voleva come alcuni titoli tipo GTA San Andreas però diciamo arricchiti con un linguaggio scurrile delle scene abbastanza violente, nudità e crudità che potevate mettere insieme in un bel calderone di gameplay. Cosa che è stata fatta ma è stata fatta nella stessa identica maniera anche di un predecessore come Postal 2. Postal 2 ovviamente a me aveva colpito e mi era piaciuto tantissimo proprio per questo motivo, proprio per l'efferata violenza, la stupidità del gameplay e proprio la spensieratezza con il quale potevi approcciare il titolo. Postal 4 ha praticamente fatto la stessa cosa solo con una grafica un po' migliorata, un po' più dettagliata ma fondamentalmente il discorso rimane uguale quindi una sorta di copia e incolla con grafica migliorata next gen che sicuramente poteva essere evitato. Quindi mi dispiace purtroppo inserirlo in questa flop ma credo che la sua posizione sia esattamente questa. E poi ovviamente in prima posizione non poteva che esserci Stray. Stray è sicuramente il flop a mio avviso più grosso di questo 2022 e il fatto che sia stato candidato a gioco dell'anno dimostra quanto il mondo videoludico stia effettivamente precipitando verso il basso. È un gioco che è stato definito come indie ma che poi è stato pubblicizzato e indicizzato addirittura da Sony quindi stiamo parlando di un indie che è fondamentalmente affermato con una major quindi non possiamo neanche più definirlo indie sta spacciato per quello che effettivamente non era. Io personalmente parlando Stray lo reputo come truffa del 2022. Un gameplay sciatto, piatto, monotono che mi ha permesso addirittura di dropparlo dopo le prime due ore di gameplay proprio perché non sono riuscito a definirlo come gioco. Per me Stray poteva benissimo essere un giochino su mobile letteralmente dove premevi due tasti messi in croce e avevi praticamente la tua storia, avevi la tua narrazione. Storia commovente, storia struggente inserito in non so quante categorie per questo Game Award del 2022 che mi hanno letteralmente fatto mettere le mani nei capelli quando ci sono stati dei titoli che sicuramente meritavano molto di più come Tunic per esempio che non è stato neanche citato come Sifu che per me è stato uno dei migliori giochi del 2022 cioè ci sono veramente tantissimi giochi e tantissime esperienze videoludiche che possono essere definite come tali e sinceramente parlando per me Stray non è una di quelle. Il fatto che abbia avuto tutto questo successo grazie ai gattini grazie al fatto di essere teneri e coccolosi è sicuramente un'ottima strategia di mercato ma potete convincere soltanto quelli che appunto sono gattari amano i gatti e vogliono diventare dei gatti ma per quelli come me che preferiscono i cani è sicuramente guerra aperta a parte gli scherzi Stray mi ha letteralmente deluso non è un titolo che effettivamente può essere definito come titolo quindi io non lo definisco neanche come gioco ma più come passatempo e detto questo è sicuramente lui il primo a prendersi il podio o comunque il primo posto per quanto riguarda questa flop 2022 detto ciò non ho nient'altro da aggiungere spero che questo video possa esservi piaciuto fatemi sapere anche voi qual è la vostra flop del 2022 io aspetto ovviamente tutti i vostri commenti e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bai bai perché strego? so Grazie a tutti